ma stanno veramente andando oltre che se vede il cane? guarda guarda si scostano tutte già si stanno scostando pure pure con la zompa ma gli scappano di nuovo guardate come le stanno guardando le stanno tutte quante fissando ma queste che vogliono adesso da noi? quella che zoppica prendi quella che zoppica ma come stanno? ma che roba forza! guardate che stanno scappando però veramente come le guardavano tutte quante? tutte quante insieme stavano guardando ma quella povera zoppola beh quella forse riescono ad arrivare quella che sta scappando di più? fauna è qua adesso guarda le vogliono circondare le vogliono circondare ma guardale! ma guardale! ma guarda! ma come stanno? guardate che saltato! avete visto come ha saltato quella? è vero! veramente ha saltato tantissimo ecribili adesso sono fermate perché loro si sono fermate guardale! ma come le guardano? sembra un gatto animato dai vai andiamo ce l'ha fatto vai vai ce l'ho proprio via a tutti forza a sedere via a tutti via a tutti voglio il classo via a tutti voglio il classo credici credici ma non si è accorto non è suonato di clacson solo il clacson che così si accorgono ma provate tutte perché ce l'ha fatto se ce l'ha fatto lì c'è il pastore e la cilla è il verde collo si chiama come un gattino seconda tattica adesso la guardano stanno preparando l'attacco però è Lucilla perché Lisa guarda sta bene allontano è più coraggiosa è più coraggiosa è più coraggiosa ci ha fatto transumare un greggio ma scena del genere mi ricorda 4 anni fa una signora che si era si era fissata che lei poteva accarezzare una pecora e quindi nel connemara aveva visto una pecora sulla strada la signora scese dice no non io la voglio fotografare prego e invece voleva toccarla la pecora chiaramente arrivata a 3-4 metri e ne faceva altre 10 e la signora dice si è fatta a 600 metri così quasi un chilometro noi dietro quel pium ma ne questa a piedi che chiaramente la pecora non la prendeva mai battuta mestamente da un groggio di pecore però è stata più coraggiosa Lucilla e Lucilla si è avvicinata molto di più si è che lì sembra la pecora del zoppicaure lei si sono fermate si sono fermate si è ridere non lo so no lo so no lo so no lo so no lo so ma non tu sa invece ho visto che si è avvicinata invece no beh ma avete visto come è saltato una ha fatto un salto si si è vero una ha fatto un salto proprio perché la riuscita tu ti senti che la guardava si filmavano allora si filmavano la pecora hai filmato hai filmato tutto dai si che forza beh però non ci credeva non ci credeva grazie a tutti